Sono Cecilia Ciao sono Giovanni Sono Elisa Mi chiamo Giacomo Lorenzo Marco Ho studiato pianoforte per qualche anno L'auto alle scuole medie Suono un pochino la chitarra Ho suonato, suono e penso suonerò sempre Usi da 12 anni Suono il basso e canto Uso principalmente il computer Con il computer, con lo stereo e con l'autoradio Lettore MP3 E ho un lettore MP3 Ogni supporto possibile e immaginabile In macchina Lo stereo della macchina Anche lo stereo di casa Uso lo stereo Qualche volta il lettore MP3, pochissimo la radio Al massimo una playlist di album Un album, una sequenza delle canzoni Nel quale è stato registrato e deciso dall'artista Gli album Dell'album Concettualmente l'album Playlist che mi faccio io con la musica che preferisco Non ho una preferenza tra musica indipendente o commerciale Musica indipendente Direi indipendente ma in realtà spessissimo commerciale La musica come ogni forma d'arte Nasce indipendentemente dal commercio Quindi per sua stessa natura Non è ontologicamente commerciale Semmai lo diventa Non farai una questione di lingua quanto di genere La straniera Preferisco semplicemente musica di qualità Sia poi italiano o straniera Conta a zero Musica straniera Probabilmente in questo momento in Italia C'è una scena musicale legata Ai tantissimi personaggi che escono dai talent show Dai reality E che quindi io non ascolto Non ho un reale pensiero su di loro La scena musicale italiana C'è È viva È molto attiva Però avrebbe bisogno di un maggior supporto Da parte delle Grande case discografiche italiane ed estere Per emergere un po' di più Non ne so niente Sono ferma agli anni 70-80 circa Se non per qualche rara eccezione Direi che identificare una scena È praticamente impossibile Per quella che è la mia esperienza Ci sono dei piccoli focolai O tendenze musicali In questa o quella città Ma niente di rilevante Non vado molto spesso a vedere i concerti dal vivo Purtroppo E l'ultimo concerto che ho visto È stato il concerto di The Mars Vault a Milano Una specie di riassemblamento dei Joy Division Io vado a vedere i concerti dal vivo E l'ultimo che ho visto L'ultimo che mi ricordo sono stati i Sonics È stato il concerto dei National a Milano Non sono un frequentatore accanito di concerti Il prossimo a cui andrò sicuramente è quello dei massimo volume Ho visto un concerto di Edda Mi affido principalmente a amici, conoscenti, appassionati come me O anzi più di me di musica Consigli di amici direi YouTube E leggo però a volte anche dei blog del settore Ai blog e ovviamente al passaparola degli amici Mi affido a tutto tranne che alla televisione e alla radio Mi affido molto a internet e ai miei amici che hanno dei gusti musicali molto raffinati Mi rifiuto di comprare musica su internet Generalmente compro direttamente dagli artisti Preferibilmente vado a un concerto e compro un CD o un vinile lì iTunes dove si può peraltro scaricare anche singole tracce E quindi a volte si può pagare anche solo un euro per avere una canzone Più o meno quell'euro a canzone o quei 9-10 euro a CD Se mi trovo a scaricare qualcosa spesso poi mi ritrovo a comprarlo se mi piace particolarmente Non ho molta fiducia nel mercato discografico digitale Penso che gli artisti per lo più guadagnano con i concerti o con merchandising Beh, credo che si dovrebbero supportare i musicisti Non il mercato discografico Non sono in fin dei conti le case discografiche a far musica Eliminare istituzioni a fine di lucro come la CIA O a dare degli incentivi come si fa in Scandinavia per la registrazione di album Da utente appassionata posso dire che sono meno legata al supporto quanto alla qualità del prodotto Secondo me il mercato musicale dovrebbe affacciarsi al mercato digitale Cosa che non ha mai fatto in modo serio in tutto questo tempo Il primo album credo fosse un'audiocassetta degli East 17 Thriller di Michael Jackson Un'audiocassetta di We Are The World Un CD di The Straits Era una musicassetta e era Bad di Michael Jackson The Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins Ed era un CD Non ricordo l'ultima volta che ho comprato un CD L'altro ieri ho comprato dei vinili L'ultima volta sarà stato circa due o tre anni fa e era un CD Il CD delle luci della centrale elettrica Anni fa quando facevo le superiori Ieri ho comprato l'ultimo CD di James Blake I miei tre artisti preferiti Norma Jean Led Zeppelin National Lee Who Domenico Modugno The Underworld The Arcade Fire Genesis Black Sabbath La Dave Matthews Band Pink Floyd Gli Spoon A Bridge on Heaven Il Balletto di Bronzo Joy Division Hyper Jam Li Par��